La politica a Pomigliano d'Arco, Beppe Grillo in diretta al telefono, interviene alla presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle alle europee. Il servizio di Gianni Occhiello. Era attesa anche Beppe Grillo il 25 aprile in piazza Primavera a Pomigliano d'Arco, gremita di militanti e simpatizzanti per il campania tour del Movimento 5 Stelle. Ma alla fine il comico genovese si è materializzato solo con una telefonata indiretta. Sono sicuro, ha detto Grillo, riguardo alle prossime elezioni che non vinceremo ma stravinceremo la serata per presentare i candidati pentastellati campania al Parlamento europeo e dei comuni che andranno al voto amministrativo il 25 maggio. Palpabile l'emozione degli aspiranti. Ho intenzione di proporre una risoluzione europea che favorisca l'accesso ai fondi da parte delle aziende italiane di questo territorio. E non nasconde l'entusiasmo per i recenti sondaggi il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Se prima ci davano al 18 abbiamo avuto il 25 e oggi ci danno al 27 fate voi l'addizione. Ma la cosa importante è che secondo me la festa della liberazione la dobbiamo rinviare di un mese. Noi oggi festeggiamo quello che meritoriamente hanno fatto i nostri partigiani ma non siamo ancora un paese libero. Siamo un paese in cui ai fucili si è sostituito lo spread, il 3% e il fiscal compact. E per festeggiare veramente la liberazione dobbiamo dare un grande segnale alle istituzioni europee. Grazie.